E' lo stesso per le opere, un caro nome, una voce poco fa, un bel di vedremo, un fil di fuoco, erano, facevano parte di un certo patrimonio comune che oggi probabilmente si è dissipato perché buona parte di diversi, tra l'altro qui tendevi la paroletta, ma una volta sapevano tutti i bambini e poi tutti i vecchi avvocati, i vecchi medici lo sapevano ancora perché l'avano imparato a scuola, i bambini non lo so fino a che punto fanno parte di questo patrimonio culturale comune che come dico una volta era liceale, ma anche le ultime repliche delle riviste, se per esempio l'avato si riscantava, si incammina per Milano, già la testa che gli ronza, massacrava il tram di Monza, opla, 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 allora, grazie, Alberto Arbasino, a proposito di moda si scrive, una ascoltatrice, lavoro in una grande casa di moda, vorrei rassicurare tutti sulla prossima controtendenza, la vita ritorna al naturale punto vita, dunque la vita non sarà più così bassa, grazie ad Alberto Arbasino che è stato qui con noi a fare letta, per parlare del del piano a lui dedicato, il primo dei due volumi previsti, romanzi e racconti. Il 10 novembre 2009, mi sa che Antonelli intervistava Alberto Arbasino, e voi ci scrivete, ci scrivete in grandissimo numero in questo momento, 335-56-34-296, ci raccontate quello che state facendo, per esempio, per esempio un raccoltatore che però non si dima, eccomi a casa, per il giorno di lavoro, presso il pronto soccorso di Bambano, io ringrazio tutti per le manifestazioni di affetto e stima per noi sanitarie, e detto ciò, sto leggendo il mio intervento e il mio intervento e il mio intervento e il mio intervento, per un saluto futuro a tutti, ovviamente ricambiato da tutti noi. La benedetta, Romagnola, ma lavoro a Milano, ci scrive, sono rimasta isolata con la febbre qui, e vi ringrazio perché la vostra voce mi aiuta a sentirmi meno sola, amo disegnare e ho approfittato di questi giorni per leggere disegnare con la parte destra del cervello di Betty Edwards. Molti altri si stanno scrivendo e noi vi leggeremo, ma fra poco, ora la linea mal di E3, noi torneremo fra non molto con un gruppo di occupazione di politica e di un gruppo di telefono che mi sostiene di legge. Aggiungiamo. Repubblica Rosetta, ritratti di storia. I più celebri storici contemporanei raccontano in modo essenziale ma autorevole i personaggi del passato. A Giulio Cesare e a Gatti, da Pericoli e a Kennedy, per comprendere a pieno la storia attraverso un'attività di scioccolare i protagonisti. Domani inedicto la Corre Puglia, il primo voluto, Alessandro Barbero racconta Carlo Magno. I pazienti che lottano contro le uccemie, il FOM, l'Igialoma, oggi hanno ancora più bisogno di te. A il sostiene i centri ospedalieri impegnati a fronteggiare il coronavirus per garantire le cure necessarie ai pazienti più fragili. Aiutaci a combattere l'emergenza. A l'Igialoma, oggi hanno ancora più bisogno di te.